Avviso di conclusione e intagini della Procura di Catanzaro nei confronti del Presidente della Regione Calabria Oliverio, del Sindaco di Cosenza Occhiuto, dell'ex consigliere regionale Nicola Adamo e di altre 17 persone. A Catanzaro, prima edizione del Job Day, giornata di Ocesana a Soverato, lo sport. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1 TV. Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, del PD, il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Forza Italia, aspirante candidato governatore, e l'ex consigliere regionale del PD Nicola Adamo hanno ricevuto, assieme ad altre 17 persone, un avviso di conclusione e indagini della Procura di Catanzaro in cui si ipotizzano a vario titolo i reati di associazione delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbativa d'asta e corruzione. L'inchiesta riguarda la metropolitana leggera e il nuovo ospedale di Cosenza. Il direttore dell'ufficio postale di decollatura, Riccardo Cristiano, di 41 anni, che risiede a Cleto, in provincia di Cosenza, è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di La Mezzia Terme, con l'accusa di truffa e peculato. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di La Mezzia Terme su richiesta della Procura Lametina. L'indagine ha consentito di accertare l'esistenza di un complesso sistema fraudolento che ha permesso al direttore dell'ufficio postale di appropriarsi di somme di denaro da più clienti per un totale di 132 mila euro. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe agito approfittandosi della buona fede dei clienti e riuscendo a conquistarne la fiducia, al punto da poter disporre varie operazioni sui loro conti correnti e prodotti di investimento. Gli elementi a carico di Cristiano, nei confronti del quale è scattato anche un provvedimento di sequestro, sono stati raccolti con accertamenti e intercettazioni telefoniche. Un fucile mitragliatore Kalashnikov, due caricatori bifilari e 30 cartucce, tutte in perfetto stato d'uso, sono stati sequestrati a San Calogero dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 72 anni per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nei giorni precedenti i militari, durante controlli nella zona di residenza, avevano condotto una perquisizione nell'abitazione dell'uomo e in un manufatto adiacente che in passato era stato di sua proprietà. Nell'edificio adibito a magazzini i carabinieri avevano individuato su un muro perimetrale un intercapedine al cui interno era stato ricavato un vano utilizzato per nascondere il fucile d'assalto. Le ricerche si erano successivamente estese alle aree circostanti e hanno portato al ritrovamento sotto un cumulo di rifiuti all'interno di un vecchio frigorifero, di una pistola semiautomatica Beretta, due caricatori e 48 cartucci. Cambiamo argomento a Catanzaro, presso la Camera di Commercio ha avuto un grande successo la prima edizione del Job Day. Non c'è lavoro, sono ragazzi senza diploma e trovo molte difficoltà per entrare a lavorare. Di questa iniziativa cosa ne pensi? Com'è? Di questa iniziativa. È un'iniziativa molto buona per noi giovani, per entrare magari in un ambito lavorativo. Questa è la prima edizione del Job Day che abbiamo organizzato come il promo Catanzaro. Devo dire che stamattina è una bella sorpresa, è sotto gli occhi di tutti il successo che sta avendo questa iniziativa. Ci sono tutti i ragazzi pronti a fare i colloqui e le aziende sono arrivate e stanno già facendo la parte operativa, quindi di incontro tra domande e offerte. Fra poco inizieremo anche la parte del convegno. È sicuramente un'iniziativa importante alle porte della stagione estiva, ancora di più. Io rappresento un hotel, il Mirabò Parco Hotel, stiamo ricercando personale proprio per la stagione. Diciamo che questa iniziativa si configura all'interno di uno scenario un po' particolare. Da una parte c'è un tasso di disoccupazione elevatissimo, dall'altro comunque noi aziende, soprattutto nel settore ristorativo e ricettivo, abbiamo sempre di più difficoltà nel ricercare il personale. Quindi questa è una delle iniziative che possono aiutare a colmare questo gap. Questo è un evento unico nel suo genere. Il merito è della promo Catanzaro e della Camera di Commercio. Noi come partner abbiamo fatto nostra questa iniziativa per fare in modo che ci potesse essere la migliore animazione territoriale, ma non solo. Abbiamo dato anche attività di consulenza su quelle che erano le potenzialità di questa iniziativa, le modalità di partecipazione e anche quali erano i termini di scadenza per poter accedere all'evento Job Day. Io credo che è un evento molto importante e sarà nostra cura poi analizzare quelli che sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi per fare in modo che ci possa essere poi una fase successiva, una seconda poll. Noi stiamo lavorando in questi termini con tutti i partner istituzionali, con le associazioni in categoria. Abbiamo fatto nostra questa iniziativa, come ho detto prima, portando avanti quel concetto di rete che ha come unico leitmotiv quello di riuscire a fare di ogni singola iniziativa, sia essa collegiale oppure a iniziativa di un solo soggetto istituzionale, abbiamo fatto in modo che possano essere le iniziative di tutti. Diciamo oggi 566 iscritti, i ragazzi soprattutto che cercano un lavoro. L'ultimo dato parla di 52% di disoccupazione giovanile in Calabria, quindi 500 ragazzi che sono iscritti al Job Day con 30 aziende della provincia di Catanzaro che ricercano personale. Oggi uniamo queste due realtà che sono fondamentali, le aziende e i lavoratori. Oggi se dalla Camera di Commercio uscirà anche un solo posto di lavoro, per noi abbiamo raggiunto uno scopo importantissimo per questa terra, per questa provincia, per questa regione. È un dato importante, è una giornata della concretezza direi, è un tetris, è una combinazione di metri due realtà insieme. Assoverato invece nei locali dell'oratorio si è svolta la tradizionale giornata diocesana. C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se dovevo andare da così, che vuoi dare tutto, vuoi dare tutto e resti lì. E io ci credevo, e io ci credevo sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, perché ci credevi sì, ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me, che cosa vuoi da me, cosa ti aspetti dentro te, che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me, che cosa vuoi per te, cosa ti aspetti in fondo a te. Una giornata di festa all'oratorio di Soverato, una giornata che punta appunto l'attenzione sui giovani. Eccellenza, cosa rappresenta questo evento? È la giornata dei giovani di tutta la diocesi che si svolge quest'anno a Soverato, anche per le belle strutture che ci sono e che i padri salesiani hanno messo a nostra disposizione. Il lavoro con i giovani si svolge in ogni parrocchia. Mettersi insieme una volta all'anno per quasi fare sintesi di un lavoro dell'anno è una cosa che si fa tutti gli anni, quindi niente di nuovo. Quest'anno riveste un particolare significato perché c'è stato un sinodo sui giovani, quindi si riflette sul documento che il Papa ha dato ed è un invito ai giovani a prendere la loro vita e a mettere a disposizione degli altri, convinti della presenza del Signore nella nostra vita, nel nostro cuore, perché la illumina, ci dà forza e ci dà il coraggio di superare le difficoltà. Tenuto conto, e questo il Papa lo sottolinea, che tanti giovani e meno giovani stanno peggio di noi, invitandoci anche a piangere per poter comprendere le loro sofferenze e poterci coinvolgere come meglio possiamo nel dare il meglio di noi, non solo qui, ma forse anche fuori da qui, fuori dalla nostra Calabria, dove certamente abbiamo tante difficoltà, ma c'è altra gente che sta peggio di noi. Allora ho detto ai giovani, siate buoni, siate bravi, camminate verso la santità e lo ripeto anche attraverso questo mezzo che ringrazio. Buona domenica. Sì, grazie, eccellenza, buona domenica. Qual è l'augurio quindi che lei rivolge ai giovani in questo momento e in questa società in cui si sono persi i valori e cerchiamo tutti quanti di farli riacquistare? Coltivare il benessere spirituale che è fatto di qualità belle, qualità umane, è fatto di virtù, è fatto di cammino di santità, è fatto di bontà. Tanti auguri. Tanti auguri. avanti. Sietro. Avanti. Sietro. Vagino. Mettiamo anche la testa. Vagino. E in ombro. Sinistra. Sietra. Sinistra. Dove. Gosse. Viva il giro. Viva il giro. Allora. Viva il giro. Viva il giro. Viva il giro. Viva il giro. Donniva Rauti, responsabile della pastorale giovanile, è qui a questo evento particolare, qui a Soverato. Una giornata di festa. Tutti voi come la state vivendo? Beh, è una giornata che ogni anno di solito facciamo, quest'anno qui a Soverato, è la giornata di Giosane dei Giovani che coinvolge diversi ragazzi da parte della Diocesi. e quest'anno ha come tema la frase che cosa vuoi da me, che rievoca una canzone dell'ultimo Sanremo, ma che lancia anche un messaggio perché il riferimento è al Vangelo di Luca, Maria che dice ecco la serva del Signore, per cui è un po' la domanda che Maria rivolge al Signore, che cosa vuoi da me, no? Che cosa vuoi che io faccia? Quindi non è una provocazione. E' un po' l'invito a tutti i giovani a scoprire nella propria vita la presenza di Dio e a dire di sì alla sua chiamata. Ci sono rappresentanti giovani di tutta la Diocesi, quindi un po' da vari paesi? Idealmente sì, chiaramente non sono tutti i giovani, non sono tutte le barrocchie, però ci sono dei rappresentanti di diverse comunità, ci sono anche ragazzi del centro calabrese di solidarietà che partecipano volentieri. Questa mattina abbiamo celebrato la Santa Messa con lo Stovescovo, pomeriggio avremo Giovanni Scifoni, questo attore anche abbastanza conosciuto per le sue performance sui Santi, abbastanza originali, che si trovano anche su Facebook, su Youtube, che farà una pièce, chiamiamola così, teatrale, dal titolo Anche i Santi hanno i Brufoli, rileggerà la vita di alcuni Santi in chiave moderna, anche accessibile a tutti. In questo momento ci sono anche dei gruppi coreografici? Sì, c'è un gruppo che cura l'animazione, la Maison della Danse, un po' di animazione di balli latini, faranno anche alcune coreografie, essendo appunto il loro lavoro, ma lo fanno qui come dono, non come lavoro, come mestiere. Troppo, avanti! Maia? 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 Ma. Campionato. Maia? Maia? Di nuovo. Avanti, indietro, vale pure, uno, due, uno, due, cambia avanti, sull'entrata, bravi, su, 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 to, lo, finito, letto, posto, finestra, vetta, finestra, attenzione, boccia, cambio, mano, pure io nel tuo lato, avanti lungo, salvatore sull'implaccia attenzione lento si parla bene perché ha la velocità sicuro lento, lento lento, lento lento, lento veloce veloce lento, lento lento, lento gara lento lento, lento e, cambio lento, lento cambio per lo sport, calcio amara sconfitta per la Vigor Lamezia che perde in casa con il Belvedere Sala stampa dunque con il direttore sportivo del Belvedere Thomas Rinaldi anche questa volta avete beffato la Vigor Lamezia ma questa volta è un risultato pesantissimo perché siete arrivati in finale è un risultato pesante e sudato è stata una bellissima stagione e siamo contenti di avere l'opportunità di poter continuare a cercare di fare bene abbiamo un gruppo meraviglioso che merita questi traguardi e ogni soddisfazione che stiamo avendo è tanto bella quanto isperata poi, voglio dire, arrivare addirittura in finale già era stato un grande risultato fare i playoff però per voi arrivare in finale è veramente quasi un'impresa è davvero un'impresa è davvero un'impresa si è visto fine partita nell'esultanza che è stata veramente uno sfogo, una gioia vedere i sorrisi dei ragazzi è qualcosa di meraviglioso perché abbiamo costruito una bellissima realtà e se questi sono i frutti ne siamo davvero felicissimi partivate appunto con lo sfavore perché giocavate in campo avverso due risultati su tre e alla fine avete trovato l'episodio vincente eh, diciamo che ci siamo creati questa piccola fortuna l'episodio vincente a pochi minuti dalla fine ripeto, è stata una gioia assoluta io ancora, come vedete, non riesco a crederci e ce la godremo, ce la godremo abbiamo quest'altro passetto da chiamiamolo passetto da fare ma come avete detto voi prima è già una bella impresa essere qui e tutto quello che verrà è tutto di guadagnato adesso, per vedere, possono dire che è favorito perché arriva mentalmente meglio a questa finale col San Biase eh, però il San Biase diciamo che è una bellissima realtà è stata una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà nel doppio scontro in campionato fatta da grandissimi giocatori un grandissimo staff e un grandissimo mister sì, partiamo favoriti magari per la forma ma sono altri 90 minuti da giocare Claudio Morelli dunque allenatore Vigor Lamezia un episodio castiga la Vigor Lamezia certo non è stata la migliore Vigor Lamezia ma quell'episodio è costata una stagione purtroppo devo dire che non siamo stati bravi e nello stesso tempo fortunati nell'ultimo momento di stagione ho avuto la squadra con tantissimi infortuni tantissima gente che è arrivata in questo epilogo non al meglio forse non non doveva finire così sono il primo io dispiaciuto insieme alla squadra ma il calcio il calcio purtroppo è questo e bisogna accettarlo sì perché poi ripetiamo Belvedere è stato lì non ha mai praticamente tirato in porta ma ripetiamo la sua squadra magari se avesse provato di più a fare qualcosa allora magari l'episodio non vi puniva però non avendo fatto gol insomma alla fine è arrivato questo sì ma perché non ce la faceva la squadra non so che c'è ho visto voglio dire la squadra che non era nelle migliori condizioni questo l'ho notato infatti ho dovuto fare si è visto tanti spostamenti per infortuni per altre situazioni che si sono verificate l'infortunio a Mercuri l'infortunio a Tripodi e quindi ho dovuto cercare sempre di mescolare un po' le carte ma a parte questo ripeto non siamo stati bravi ma neanche quel pizzico di fortuna ci ha aiutato in alcuni momenti che forse poteva cambiare le sorti della stagione quindi insomma solo l'episodio oppure magari la squadra poteva dare qualcosa in più anche insomma visto che l'avversario comunque era un po' rinunciatario no no ti ripeto noi dovevamo essere più cattivi più pronti per poter affrontare azzannare questa partita azzannare questa squadra nei momenti della partita diciamo più importanti non l'abbiamo fatto sta partita è scivolata così su un risultato dove ci ha penalizzato negli ultimi negli ultimi minuti ma ripeto non sto qui a voglia giustificare niente perché mi prendo le mie responsabilità so che dovevamo arrivare almeno alla finale questo non l'abbiamo fatto questo mi dispiace veramente tantissimo sono molto dispiaciuto rammaricato andiamo avanti peccato dopo un giorno di ritorno chiudere così insomma non arrivare nemmeno alla finale con un bel vedere che si è confermato al bestianetto purtroppo sì purtroppo non arrivare alla finale è stato è stato un epilogo amaro e dispiace tantissimo sia a me che a tutta la tutta la squadra non aver potuto regalare questa finale alla società che meritava una società che ha fatto di tutto per poterci mettere nelle condizioni migliori per poter diciamo far bene dispiace non ho altre parole perché non si trovano in questo momento né giustificazioni né altro dico solo che ci assumiamo le nostre responsabilità sappiamo che dovevamo e potevamo fare di più e così non è stato non ho altre parole e questo per oggi è tutto noi vi ringraziamo per la cortese attenzione vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti